E per chi ama i risvegli, quelli della natura, respirare, rallentare, per chi cerca le albe, gli orizzonti, gli spazi aperti. E per chi non ha un attimo da perdere, per chi crede nella competizione, a tutti i livelli. Per chi cura il corpo e chi la mente, chi si immerge nella natura, chi cerca la cultura. E per chi pensa in due e chi pensa in grande. E per lui, per lei, per loro, per tutti. Avete appena assistito a una giornata qualsiasi sulla riviera Romagnola. E adesso tutti a letto, che domani si ricomincia.